A un certo punto c'era uno che stava a Camerano tranquillo, un certo Saro Falsaperla, Catarese, in giro, in Vietania, che lo incontra una troupe, perché si chiamano troupe queste qua, c'era il cameraman, chiedo che c'era un filo cameraman che è l'assistente, no? E poi c'era chi era il giornalista, in qualche modo, col microfono, che faceva domande, dice scusi, scusi, prego mi dica, scusi, lei, dove vai in vacanza? Ma, ci faranno con lei, due anni fa, ho stato a mare e mia moglie è rimasta incinta, l'anno scorso ho stato in montagna e mia moglie è rimasta incinta, quest'anno non lo so se vado a mare, in montagna, però sto coppa a mia mogliere, ma poi meglio è!